Elettra Lamborghini ha festeggiato il primo anno di matrimonio con Afrojack. Molti vociferano che la cantante sia incinta, ma è vero? Elettra Lamborghini lo scorso settembre ha festeggiato il primo anno di matrimonio con Afrojack. Molti vociferano che la cantante sia incinta, ma è vero? Ecco tutta la verità. Leggi anche, chi è Afrojack, marito di Elettra Lamborghini? Età, lavoro, matrimonio, Instagram Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini e Afrojack hanno festeggiato un anno di matrimonio, la coppia, infatti, dopo due anni di fidanzamento è convolata a nozze il 26 settembre del 2020. I preparativi sono stati affidati alla sapiente mente di Enzo Miccio che si è occupato del vestito e della cerimonia nei minimi dettagli. Foto, gossip.it Elettra Lamborghini e Afrojack nel giorno del loro matrimonio oggi, a distanza di diversi mesi dal loro matrimonio, Elettra e suo marito Afrojack sono stati coinvolti nell'ennesimo gossip, la cantante è incinta? A far scaturire qualche dubbio sulla dolce attesa ci ha pensato una foto molto particolare condivisa dalla stessa Lamborghini. La foto La foto che ha fatto insospettire i fan riguarda una posa davvero evocativa, nello scatto si vede il ventre di Elettra Lamborghini con sopra le mani della cantante stessa e di suo marito Afrojack. Forse l'ereditiera vuole comunicare così di essere incinta? La storia di Elettra riportata dall'esperta di gossip Deyanira Marzano al momento, c'è da dire, ne Elettra, ne suo marito hanno mai affrontato l'argomento con i loro fan e non hanno mai confermato o smentito la notizia sulla presunta gravidanza della cantante. Avremo notizie più certe in futuro? Speriamo proprio di sì. Clicca qui per seguirci su Instagram e non perderti nemmeno una news. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!